grazie grazie dell'introduzione rifaccio una piccola introduzione dandovi innanzitutto il il benvenuto appunto il tema della di questo incontro per cui ringraziamo tra l'altro fondazione circolo dei lettori per ospitarci per averci invitato creativo a chi creativo a chi in che senso beh ovviamente nel senso che l'avvento di cui parleremo abbondantemente delle intelligenze artificiali generative avremo poi modo di spiegare di che cosa si tratta sta sicuramente avendo un impatto molto importante sul mondo della creatività sul mondo della creatività autoriale sul mondo della scrittura sul mondo dell'arte dell'illustrazione e non solo gli ultimi 12 mesi fondamentalmente sono stati caratterizzati nel mondo tecnologico ovviamente dall'avvento di questi strumenti di intelligenza artificiale generative ovvero strumenti che attraverso sfruttando un nostro comando detto in gergo prompt eseguito in linguaggio naturale come dialoghiamo tra di noi normalmente sono in grado di recepire le nostre istruzioni e a partire da esse creare dei testi creare delle immagini creare della musica creare dei video sono strumenti con cui quindi noi letteralmente dialoghiamo possiamo dialogare oppure generare contenuti con un linguaggio per l'appunto naturale l'avanzata l'avvento di questi sistemi rappresenta comunque un'evoluzione dei tanti strumenti di intelligenza artificiale più correttamente di deep learning che negli ultimi dieci anni hanno già pervaso la nostra quotidianità non siamo di fronte a una novità assoluta siamo di fronte a un importante salto in avanti perché già oggi noi utilizziamo l'intelligenza artificiale in tantissimi settori informazione sanità sicurezza intrattenimento tantissimi qua andremmo fuori tema ecco l'avvento di questi nuovi sistemi di queste intelligenze artificiali generative proprio per il modo in cui noi ci interfacciamo a esse ha suscitato tanta affascinazione quanti timori l'impatto sul mondo del lavoro lo toccheremo anche così in maniera un po laterale anche fascinazioni e timori di ambito più diciamo esistenziale fino a dove possono arrivare questi strumenti quali sono le loro potenzialità quali sono i loro limiti ma tra le tante domande che ne hanno che hanno posto che che pongono e tra tanti dilemmi anche che pongono le intelligenze artificiali generative ce ne sono alcune spesso essenziali che riguardano il il ruolo della creatività alcune delle domande sono nuove in verità la maggior parte no sono domande che già ci siamo posti con gli strumenti utilizzati nel campo dell'arte della creatività precedenti qual è il grado di autonomia che hanno questi strumenti chi è l'autore nel momento in cui un testo viene generato automaticamente un testo o un'illustrazione viene generata automaticamente da un'intelligenza artificiale basandosi solo su un nostro prompt un nostro comando la macchina è dotata di creatività e poi c'è tutta la questione estremamente scottante del copyright del diritto d'autore che sta creando parecchi parecchio caos anche in alcuni casi e anche una bella polarizzazione interessante nel dibattito di tutto questo parleremo questa sera finisco la mia introduzione appunto io sono andrea daniele signorelli sono un giornalista mi occupo da tempo di innovazione digitale con me c'è anche ilaria bonacossa storica dell'arte e curatrice del museo nazionale di arte digitale collegata da remoto alice varale ricercatrice esperta di estetica arte e intelligenza artificiale e simone arcani scrittore e docente di nuovi media e cultura digitale simone io partirei da te per avere un po una panoramica su quello che forse è il tema un po introduttivo cioè vorrei introdurre il tema della creatività facendo però un piccolo passo indietro e partendo da quello che è un tema che tocca letteralmente tutti e tutte cioè quello del lavoro fino a poco fa c'era per esempio un famosissimo celebre studio della di oxford del 2014 si diceva l'intelligenza artificiale sostituirà i lavori automatici manuali più banali più ripetitivi mentre era proprio specificamente esplicitato in quello studio i lavori creativi che riguardano l'essere umano sono tranquilli al riparo tra i vari grafici c'era anche uno che diceva il lavoro dell'imbianchino verrà sostituito al 90 per cento delle probabilità il lavoro dell'illustratore con il 10 per cento avanti veloce di dieci anni la situazione si è letteralmente rovesciata un imbianchino robot ancora non esiste e buona fortuna non chiamatelo in casa perché combinerebbe disastri garantito invece un illustratore intelligenza artificiale letteralmente già esiste questo che cosa ci dice del futuro delle professioni creative tanto trovarlo l'imbianchino tra idraulici elettricisti e imbianchini almeno ci fossero intelligenze artificiali no quello studio parlava in generale di macchine e poi di intelligenza artificiale quindi rendeva conto di una dimensione in cui non si pensava che il dato culturale l'atteggiamento la professione culturale con delle industrie culturali potesse essere preso come dicevi giustamente tu c'è stata una 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 piccola rivoluzione che si chiamava prima machine learning e poi deep learning che detto molto banalmente è il fatto che si è passato da una tecnologia che si occupava dei software quindi delle macchine delle programmazioni a una tecnologia che oggi fondamentalmente è basata su un'altra cosa cioè sugli archivi quindi è una tecnologia molto più culturale già di per sé quindi non 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 colpisce il fatto che l'ambito culturale sia stato il primo a essere colpito perché già di per sé è cambiato tutto oggi che ne spacciano chat gpt eccetera eccetera ma tecnologicamente sono cose che già si facevano prima che sono state rese un po più perfette un po migliori ma non è che c'è stata una rivoluzione dal punto di vista tecnologico un'invenzione nuova quello che cambia è la possibilità di aggredire sul termine aggredire poi magari ci riflettiamo aggredire dei grandi database cioè delle grandi biblioteche avrebbe detto borges fondamentalmente cioè dei grandi luoghi dove delle informazioni vengono marcate e vengono rese disponibili oppure vengono depredate per lavori o per risposte di diverso genere quindi intanto cambia quella prospettiva e poi cambia la prospettiva di come vengono utilizzati anche qui noi ci stupiamo delle cose degli ultimi anni ma abbiamo già delle radici ben vecchie cioè l'ultima l'ultimo strike l'ultimo sciopero degli sceneggiatori uno dei punti era anche quello dell'intelligenza artificiale ma seguiva un altro sciopero di ben sette anni prima che erano sceneggiatori più attori proprio per vedersi riconosciute le prestazioni dell'intelligenza artificiale che andavano a prendere dai loro lavori quindi è già da un po' che noi in qualche modo siamo preavvertiti di questo penso per esempio al tutto il mondo dei videogame che già da anni si sta preparando a capire qual è l'impatto proprio dal punto di vista del mondo del lavoro tutto l'ambito degli effetti speciali che non è solo il film dei marvel ma ormai gli effetti speciali sono anche per i film di nanni moretti fondamentalmente cioè tutto l'ambito produttivo audiovisivo che comprende i video musicali le campagne di marketing l'audiovisivo del web il film le serie eccetera eccetera già è notevolmente ma da anni e con anche delle conflittualità interne inserito in questa in questa di dibattito pensate a tutto il clamore che ha fatto la nascita di una piattaforma come netflix netflix da essere un mero distributore di videocassette perché questo era una persona che chiamavi in bicicletta ti veniva a portare a casa con la glovo e la videocassetta e poi il dvd per vederlo la sera diventa una piattaforma dello streaming e lo diventa sulla base dell'invenzione di un'intelligenza artificiale il famoso algoritmo di netflix che tra l'altro non esiste sono almeno cento gli algoritmi che netflix usa combinati in maniera varia ma che per la prima volta va a rastrellare i gusti del pubblico le 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 tassonomie di serie viste e via dicendo e dice guardate che serve una serie come quella inglese ambientata al parlamento che abbia come protagonista kevin spesi che abbia un 20 per cento di sesso un 20 per cento di potere un 20 per cento di questo fanno house of cards e sbancano perché è lì il punto con gli sceneggiatori che dicono vabbè ma adesso il nostro dove sta dove sta l'idea e via dicendo tra l'altro rubano hanno pagato i diritti della serie inglese precedente cioè tutto il dibattito già c'era è esploso con l'esplosione di chat gpt e però ha delle radici lontane e adesso molto probabilmente è giunto il momento di affrontarlo veramente nei diversi campi normativi perché è vero che non c'è secondo me un problema di sostituzione diretta cioè uno sceneggiatore un chat gpt ma c'è un problema di riformulazione del mondo del lavoro nella didattica nella quindi nella scuola nella formazione la formazione permanente nel giornalismo nell'architettura nella giurisprudenza e negli studi entreranno delle intelligenze artificiali che dovranno essere in qualche modo sovradeterminate alimentate dovranno essere in qualche modo condotte dall'essere umano ma questo significa nuove competenze nuovo luogo di lavoro nuovo sistema laborativo e magari perdita di alcuni privilegi di alcune di alcuni lavori su delle pratiche dirette ecco questo è il il panorama e che è un panorama che non è non se ne sta andando non c'è non non andrà via se mettiamo la testa dentro la sabbia e poi la tiriamo fuori fra uno due anni siamo messi male ecco questo è il punto cioè non speriamo che ci siano degli hype no ma questa è una tecnologia ve lo ricordate il 3d al cinema e chi lo vede più no non è questa cosa questa cosa qui già c'è c'è da 10 15 anni ha già alimenta già delle forme di di economia e bisogna farci conti ecco assolutamente andando un po nel merito e passando ad alice di come funzionano questi sistemi generativi quali sono le loro caratteristiche molto brevemente per introdurre poi la domanda fondamentalmente questi sistemi utilizzano il database che può essere di testi nel caso di chat gpt o di immagini nel caso di mid journey e gli altri strumenti che si occupano di generare immagini hanno al loro interno un database enorme costituito appunto o da testi o di immagini nel momento in cui diamo loro un comando loro interpretano il comando che noi abbiamo dato e poi pescano cercano correlazioni statistiche all'interno del loro database frugando in questo mare di dati enorme che per noi esseri umani sarebbe incommensurabile cercando la ricomposizione ricombinazione dei dati presenti al loro interno per elaborare la risposta che ha le maggiori probabilità di essere coerenti con la nostra risposta ed è per quello che poi succedono anche degli errori ma questo un po ci porterebbe fuori tema quindi alice la quello che volevo chiederti era anche considerando appunto qual è il meccanismo e se vuoi anche tu magari spiegarlo meglio di come ho provato a fare io in 10 secondi anche alla luce di questo meccanismo noi possiamo considerare un'opera per esempio un'illustrazione creata da un'intelligenza artificiale come se davvero fosse qualcosa di creato appunto da un'entità creativa o sono più semplicemente dei nostri assistenti degli assistenti un po in grado di aumentare le nostre abilità più che di sostituirle non ti sentiamo forse sei muto o forse c'è il volume basso mi sentite ora sì intanto scusatemi tantissimo per non essere riuscita a essere lì di persona mi sono già scusata con con simone volevo scusarmi anche con con te e con Ilaria e con ovviamente con con le persone che sono venute ho sbagliato treno e perdo colpi no bisogno dell'intelligenza artificiale anche per trovare il treno e allora sì la tua domanda è veramente centrale perché quello che hanno iniziato a chiedersi le persone quando si è iniziato a fare arte con l'intelligenza artificiale essere intelligenza artificiale poteva essere creativa no eh quando è avvenuta la famosa vendita nel 2018 ormai ci pensavo oggi sono passati tanti anni del del famoso conte di Bellamino la prima opera che è stata venduta da Cristis fatta con l'intelligenza artificiale lì veniva già usata da da un paio d'anni in verità però lì è esploso proprio il dibattito tra tra le persone no e le reazioni sono anche di indignazione perché io le trovo anche spesso andando a parlare eh di questi argomenti a eventi eccetera le persone anche gli studenti spesso dicono come è possibile che che un'intelligenza artificiale faccia arte no se è qualcosa di di freddo non ha sentimenti non ha esperienza del mondo come noi non ha corpo eh ecco allora mh di fronte a queste obiezioni del del tutto legittime secondo me sono due le le osservazioni da fare la prima è che per il momento l'intelligenza artificiale non fa arte da sola no eh l'intelligenza artificiale come avete iniziato a spiegare eh sia tu sia Simone per ora eh sono eh capaci di risolvere dei compiti specifici che diamo non 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 si ha un'intelligenza artificiale cosiddetta generale che riesca a a ragionare e e ad avere un'esperienza anche del mondo come l'avremmo noi no rimane un sogno questo esiste questa teoria dell'intelligenza artificiale generale però per ora non c'è e quindi quello che c'è per ora e che secondo me anche l'aspetto più più interessante è eh una nuova possibilità di interazione che l'intelligenza artificiale offre perché eh quello che c'è di nuovo eh nell'intelligenza artificiale questo forse è sempre utile eh dirlo perché spesso si confonde magari l'arte fatta con l'intelligenza artificiale con l'arte semplicemente eh fatta col computer no assist cosiddetta computer assisted ecco eh se io disegno con photoshop non sto facendo arte con l'intelligenza artificiale eh nel caso dell'arte fatta con l'intelligenza artificiale quello che succede è che io do dei dei dati di partenza alla mia intelligenza artificiale e poi devo aspettare per vedere cosa cosa ne esce fuori in che modo l'intelligenza artificiale elaborerà queste queste informazioni quindi quello che c'è di nuovo è una certa autonomia da parte dell'intelligenza artificiale che come dicevi tu diventa eh tu hai usato una parola giusta perché è una specie di assistente non è casuale secondo me che che hai detto così perché l'hai in qualche modo umanizzata no nel senso che è effettivamente qualcosa di diverso da eh lo strumento come lo 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 concepiamo eh classicamente no un pennello un pianoforte no ehm se io suono il pianoforte cambio pianoforte eh qualunque pianista sa che il risultato sarà diverso non è che non sarà diverso però il pianoforte non elabora le informazioni che gli do quindi non non c'è questa fase di eh autonomia perlomeno parziale da parte dell'intelligenza artificiale e allora qualcuno dice dobbiamo ancora chiamarlo strumento o dobbiamo chiamarlo in qualche altro modo io credo che un'altra cosa che che quando si riflette su queste cose viene fuori è che si si possono usare le stesse parole cioè si può dire eh l'intelligenza artificiale uno strumento così come si può dire l'intelligenza artificiale vede o pensa però quando lo facciamo dobbiamo anche eh vedere un po' le le differenze no che eh che ci sono rispetto all'uso che di solito ne facciamo quindi possiamo senz'altro dire che è uno strumento se diciamo che è un assistente secondo me già ci ci avviciniamo di più a questo aspetto di di novità io ho provato a dire un compagno di viaggio perché mi ero molto appassionata al romanzo di Ross Goodwin One the Road che sicuramente alcuni di voi conoscono in cui eh questa eh videocamera di sorveglianza viene montata sul tetto di una macchina e eh e la macchina viene guidata da New York a New Orleans da da Ross Goodwin che poi l'ideatore di questo progetto e quello che viene eh ripreso viene anche tradotto dall'intelligenza artificiale in in testo no e e e vengono fuori dei testi stranissimi perché poi quello che nota un'intelligenza artificiale eh è diverso da quello che io come essere umano eh descriverei elaborerei e e quindi anche se anche i compagni di viaggio e e poi c'è e questo apre alla all'ultima questione che dicevi tu che è quella che ha toccato anche Simone per prima che è quella dei dati no perché ovviamente i tu mi hai chiesto come funzionano anzi torniamo su questa domanda se no non rispondo a questa eh funzionano per dare un'idea veloce in questo modo eh che io eh do a questa intelligenza artificiale delle enormi quantità di dati che possono essere immagini suoni eh parole se sto lavorando sui testi a seconda dell'ambito in cui sto lavorando e da questo enorme insieme di dati l'intelligenza artificiale impara eh a produrre dati eh simili però simili però mai uguali e qui sta il gioco no perché fa sì questo che l'intelligenza artificiale abbia un potere trasformativo io eh do tantissime eh immagini di di cani e di gatti e l'intelligenza artificiale mi produrrà un'immagine soprattutto se sbaglia perché poi gli artisti giocano con gli errori no eh magari che a metà tra un cane e un gatto che mi fa vedere sia i cani che i gatti in modo interessante chiaramente il grosso la grossa questione che si apre è eh quella del del bias no del fatto che che tutti questi dati che noi diamo all'intelligenza artificiale contengono tutti i nostri schemi i nostri pregiudizi e quindi quello che che l'intelligenza artificiale butterà fuori sarà conterrà facilmente questi schemi questi pregiudizi allora lì l'artista deve veramente imparare a giocare eh con con l'intelligenza artificiale in modo da andare oltre anzi da spesso da da mettere in dubbio questi pregiudizi no certo grazie tra l'altro proprio per fare eh un esempio che possa aiutarvi a avere un'idea ancora più chiara immaginate un'intelligenza artificiale nel cui database ci sono solo quadri di Picasso ecco quell'intelligenza artificiale potrà creare solo quadri quadri nello stile di Picasso se invece mettiamo solo quadri nello stile espressionista potrà produrre solo quadri nello stile espressionista se mettiamo tutta l'arte occidentale orientale africana di qualunque parte del mondo di tutta la storia dell'umanità il grado di variabilità del dell'esito dell'output ovviamente varia eh tantissimo questo solo per sottolineare che tutto tutto dipende dai dati dal database utilizzato in fase di addestramento Ilaria ma abbiamo visto un po' quali sono i meccanismi quali sono anche le i possibili utilizzi ma poi effettivamente nel mondo dell'arte contemporanea gli artisti questa intelligenza artificiale generativa o non generativa ma soprattutto generativa perché di questo stiamo parlando la utilizzano quanto come che come sono i risultati ti piacciono sono interessanti non la utilizzano così tanto come uno potrebbe immaginare perché quello che insomma è un po' emerso che la chiamiamo intelligenza ma in realtà non è vero è un caso nel senso si dice che una scimmia chiusa in una stanza con una macchina da scrivere potrebbe scrivere una tragedia di Shakespeare per caso picchiando sui tasti della macchina da scrivere ecco intelligenza artificiale in un modo strano fa questo è che a differenza della scimmia che va totalmente a caso non va a caso l'è stato dato tantissimo da mangiare nel cervello e quindi non so come dire monta delle cose che ha ricevuto ma non è intelligente nel senso che la macchina non sceglie prima dove arriverà faccio un esempio quando ho lavorato a Genova sono avuto la fortuna di andare a vedere questo iCub che al momento era uno dei due robot più intelligenti più evoluti al mondo iCub aveva imparato a scrivere ed era usava l'intelligenza generativa e questo robottino imparava a scrivere come un bambino cos'è la differenza quando lui vedeva che muovendo una mano e faceva fatica all'inizio finalmente è riuscito a scrivere una parola quindi successo perché lui vedeva la parola scritta e riconosceva la similitudine tra il suo segno e quello basta lui aveva imparato e la scriveva per sempre non so come dire in modo semi perfetto ma un po' imperfetto perché era la prima volta così perché ripeteva esattamente al millimetro la vibrazione della penna un bambino che impara a scrivere mette delle volte magari ti scambia la b e la p mentre impara ma da quando scrive la prima volta mela a quando ha 30 anni non so come dire cambierà modo e grafia infinite volte perché non è che buona la prima la mia mano farà esattamente quel gesto meccanico perché c'è una volontà magari vorrai cambiare grafia pensi che devi firmare in un certo modo e quindi bisogna stare attenti quello che dicevamo assistente da questa valenza umana di volontà all'opera gli artisti invece quello che hanno nell'opera è tanta volontà molto più che tanta tecnica diciamo che con la nascita dell'arte concettuale l'abbiamo un po' svangata il fatto che l'opera più bella è quella formalmente più finita per ora le macchine sanno fare opere formalmente molto finite che però non è quello interessante agli artisti interessa il lavoro concettuale e quindi in qualche modo ancora non è per gli artisti così interessante è interessante per degli artisti che lavorano come spesso succede nella storia sulla tecnologia nuova cioè viene inventata la handy cam gli artisti si mettono a fare i video viene inventato il computer gli artisti provano a usarlo per fare delle cose c'è l'intelligenza artificiale gli artisti provano a usarlo ma gli artisti che lo usano in maniera intelligente sono quelli che in qualche modo sono un po' programmatori passami il termine cioè sanno far fare all'intelligenza artificiale delle cose che hanno in mente che non sono quelle che faremmo noi quell'effetto lì è molto derivativo è in fondo tutti gli artisti imparano come lei hai in realtà c'è un artista quando va all'accademia impara uno skill tecnico e vede opere della storia dell'arte solo europea europea internazionale moderna moderna più vede più impara più cerca di copiare cambiando perché l'arte è così non so come dire andavano a disegnare i busti romani poi rubens andava a disegnare raffaello quindi nasce proprio su questa idea no di copiare riappropriare e cambiare però lo facevi con una volontà quindi gli artisti che sanno fare un po' i programmatori e quindi fanno fare ai loro lavori delle cose che in qualche modo mettono in discussione le AI sono gli artisti interessanti generativi quelli che il primo caso è stato questo quadro che ha vinto il concorso di pittura del colorado mi sembra nel 22 che si chiama teatro d'opera spaziale che è un quadro un po' science fiction un po' romantico che vince il concorso si crea una grande polemica perché l'artista l'aveva fatto con intelligenza artificiale quindi dicevano non è giusto che vinca o è giusto che vinca in realtà a me che mi occupo d'arte contemporanea lo trovo veramente molto noioso nel senso non è la tecnica che interessa poi può accelerare dei tempi nel senso ci sono dei lavori che magari gli artisti per farli senza intelligenza artificiale ci mettevano dieci anni di lavoro a fare un'opera adesso possono avere un obiettivo e usare il fatto che la macchina raccoglie le immagini che le può elaborare ma quello che dicevamo la precisione del prompt e anche il andare a far fare delle cose sbagliate a questa intelligenza artificiale è dove ci sono dei lavori interessanti penso a un artista come cecile wagner falkenstrom che ha fatto un lavoro per le nazioni unite in danimarca che si chiama tech for democracy lei ha immaginato un fregio lungo 30 metri quindi immaginate quanto tempo ci voleva fare un fregio dipinto una volta è un fregio di schermi dove lei ha inserito articoli di giornale che parlavano di democrazia libertà e della messa in discussione nella società contemporanea ovviamente ha scelto lei gli articoli da dare da mangiare a quell'intelligenza e si è creato un fregio in movimento che racconta sia in negativo sia in positivo questa visione della democrazia contemporanea però dico non è la macchina che ha raccontato la democrazia perché ovviamente se la macchina lo facesse da solo chi decide cos'è democrazia infatti tu citavi la capacità di alcune persone di ottenere i migliori risultati possibili da questi strumenti generativi perché sono le persone specializzate nel dare comandi nel dare i cosiddetti prompt e questa effettivamente è una professione che letteralmente fino a pochi mesi fa non esisteva e che oggi esiste anzi è caldissima quindi tutti noi possiamo scrivere a mid journey che genera immagini a chat gpt che genera testi voglio che mi scrivi un sonetto in stile shakespeare su quanto è bella questa sala però il risultato sarà come minimo mediocre ci sono invece persone che sanno si stanno specializzando nel saper dare comandi migliori nel direzione dirigere la macchina esattamente dove la si vuole guidare e quindi utilizzandola non solo come uno strumento ma anche riducendola in un certo senso il grado di autonomia simone anche rifacendoci un po quello che mi accennavi prima nelle nostre chiacchiere pre incontro un po per quello che ho appena detto io ma anche per quello che hanno detto alice e ilaria fino a questo momento poi stiamo sminuendo il ruolo dell'intelligenza artificiale però anche in prospettiva per esempio sulle tesi di di chalmers noi possiamo auspicare una direzione in cui a furia di macinare dati a furia di apprendere da questi dati culturali e creativi la macchina faccia uno scarto eh sì secondo me sì nel senso che il problema è in questo momento abbiamo delle macchine a cui diamo alimentiamo con degli archivi dei database e via dicendo poi orientiamo i risultati con i cosiddetti prompt cioè c'è un intervento umano molto forte questo è da dire che l'idea che poi si sostituisca chi lavora veramente con i prompt lo sa anche dal punto di vista della perdita di tempo è un lavoro lunghissimo se vuoi avere dei veri risultati interessanti minimamente originali e così via significa lavorare su più software non è che apri già gpt e dici adesso faccio la cosa lavori su più software li fai dialogare poi fai un'alimentazione particolare usi prompt devi tra l'altro prendere in memoria tutto quello che c'è stato per poi ridarlo magari a un'altra macchina vedere se i risultati cambiano nel tempo è un lavoro molto molto ampio e molto complesso però è anche un lavoro e qui sta la la come si dice la scintilla prometeica che prima non c'era che ogni volta che facciamo questi lavori la macchina aumenta le sue potenzialità perché è tutto sta tutto nell'alimentazione sta tutto nei nei dati sta tutto nelle nell'immissioni quindi ogni volta la macchina è sempre più io uso il termine macchina che è un termine novecentesco che tra l'altro poco ha a che fare perché tutto smaterializzato però usiamo macchina almeno ci capiamo la macchina apprende continuamente è in un continuo stato di ricostituzione di se stessa è in una continuo processo era il sogno che c'era già c'era già nella nell'inizio nella nella nei computer degli inizi quando john von neumann voleva fare il primo computer digitale perché quello di turing era un foglio di carta ricordiamocelo era un rotolo di carta john von neumann voleva fare la macchina si basa su quelli che sono gli automi cellulari cioè un piccolo gioco a scacchi che però non finisce mai perché non si mangiano di dama non si mangiano le pedine ma continuano questa è l'idea continua continua si alimenta e più si alimenta più si autoalimenta e quindi il momento in cui la macchina decide dove prendere i propri dati autonomamente è vicino non ha a che fare con la coscienza io citavo perché lo stavo dicendo prima è uscito un articolo un'intervista david chalmers che è un filosofo molto importante americano che non è per niente uno di quelli esistono ci sono due 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 categorie di studiosi soprattutto negli stati uniti quelli che la sparano grossa sperando di raccattare fondi e quelli che invece vanno un po più tranquilli so che ti stai riferendo non lo dirò mai perché so che siamo registrati quindi ci siamo anche incrociati per un lavoro di ricerca assieme quindi non lo dirò mai neanche sotto tortura e poi ci sono quelli invece più tranquilli chalmers è uno tranquillo non è uno di quelli che le spara grossi però lui dice noi siamo arrivati a un punto in cui si potrà parlare di coscienza della macchina ma non perché avrà una vera e propria coscienza ma perché sarà in grado di simulare sistemi di coscienza e guardate che quello di essere in grado di simulare è il punto fondamentale se voi vi ricordate la macchina di touring per riconoscere se la macchina diventava intelligente era se la macchina era in grado di simulare che era intelligente so che la è un confine molto labile ma è un confine molto interessante perché se se ci pensate è però il confine che ha a che fare anche con il nostro le nostre credenze nella maggior parte dei casi noi non è che andiamo a toccare con mano l'intelligenza di un altro o la sua capacità intellettiva di ricerca è sulla capacità di creare un modello quindi di simulare nel senso buono è noi crederci però è un po come quando vai dalla medium che tu non vuoi dirle niente ti fa le domande giuste e a te sembra che lei abbia capito anche questo in realtà questa macchina ti dice delle parole che per lei non vogliono dire niente cioè sono le parole che statisticamente deve mettere in fila tu leggendole ci leggi un significato perché capisci e allora dai per scontato che lei avesse una volontà dicendotelo molti dei nostri processi però funzionano così no no certo sono usciti tutte queste ormai c'è talmente tanto materiale in rete creato da bot da macchine che viene considerato anomalo il traffico umano non il traffico cioè il 70 per cento cos'è un traffico in rete è creato dalle macchine quindi cominciamo a entrare in un mondo che è un'allucinazione delle AI dove forse il tema è quando queste AI vorrà creare per le AI non per noi cioè è forse lì il tema interessante secondo me le AI più interessanti sono quelle che fanno programmazione cioè le AI che aiutano a fare programmazione e sviluppo sono quelle più interessanti perché lì c'è la sostituzione poi Chalmers diceva una cosa interessante che anch'io sottolineo il termine coscienza così come quello di intelligenza è difficile da definire anche per gli esseri umani io per una mia ricerca sto tenendo sto cominciando a raggruppare i test QI di intelligenza quelli che cominciano a esserci già negli anni 30 poi si sviluppano negli anni 50 60 addirittura negli anni 60 70 le università americane aumentavano la tua capacità di poter entrare in un'università prestigiosa se avevi passato con un certo numero il QI ed erano tutte cose da prompt cioè erano tutte una serie di incasellamenti di questioni logiche questioni mnemoniche eccetera eccetera esattamente da intelligenza artificiale generativa quindi noi stessi il termine della coscienza è difficile da generare per alcuni la coscienza è se qualcuno è in grado di narrare cioè di mettere un avvenimento all'interno di un processo per alcuni è la capacità di soffrire gli animalisti per esempio dicono cosciente è colui che sa che sta soffrendo è il modo per mettere ovviamente gli animali dentro il bacino grande della coscienza però anche su questo noi abbiamo perché una coscienza non può essere una simulazione di coscienza però vi fermo perché voi state aprendo un vaso di pandora che ci può quindi vi metto nell'angolino e torno da Alice e ritorno un po al mondo dell'arte però in verità prendendo spunto da quello che stavate dicendo su quelli che sono i confini tra essere umano e macchina perché Alice c'è un'altra analogia nel mondo dell'arte molto spesso utilizzata tra essere umano e macchina io ti premetto che la trovo un po riduttiva però è sicuramente interessante e sono molto curioso di sentire il tuo parere ovvero si dice effettivamente l'artista l'artista umano quando impara a creare a produrre le sue opere lui quello che fa fondamentalmente è prima di tutto nella quasi totalità dei casi direi studiare e poi rielaborare in maniera creativa originale quello che ha imparato quindi per certi versi quello che ha immagazzinato nel suo database personale possiamo considerare in qualche modo ciò che fa la macchina ciò che fa l'intelligenza artificiale un processo simile o addirittura uguale ovvero rielaborare tutti i dati che sono presenti nel suo tra virgolette cervello o ci sono delle differenze tra questi due processi differenze importanti non ti sentiamo scusate l'aspetto interessante sta proprio nel nel fatto che ci sono in parte delle somiglianze in parte delle differenze no ci sono tutte e due le cose a volte c'è stata un'opera di kingman che a me piace molto che si chiama uncanny mirror no vuol dire uno specchio perturbante perché poi quello che che forse ci appassiona così tanto nell'intelligenza artificiale è che rivediamo delle cose di noi stessi però vediamo anche che qualcosa di diverso no e da questo punto di vista secondo me hanno hanno ragione sia simone sia ilaria nel senso che io credo che per tornare un attimo alla discussione tra loro che mi stava appassionando ma così rispondo anche a te che che c'è un'autonomia nell'intelligenza artificiale che tende proprio per sua natura a crescere cioè dentro al concetto stesso l'intelligenza artificiale c'è questa tendenza a aumentare l'autonomia rispetto all'essere umano e che anche un po l'aspetto che che poi ci inquieta a volte no diceva e lari allora faranno tutto da sole però c'è 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 proprio lì dentro non lo possiamo togliere se lo vogliamo perdiamo eh qualcosa di interessante eh se questa autonomia crescente ci porti a qualcosa che assomigli eh alla coscienza qui hai ragione eh tu a dire che si si apre proprio un vaso di pandora ehm dipende anche cosa si intende per per coscienza come diceva eh Simone però d'altra parte ha ragione eh ilaria a dire che poi gli esperimenti più interessanti sono quelli in cui si sente la presenza dell'artista umano cioè a me sembra che forse gli esperimenti più interessanti sono quelli in cui l'artista umano eh gioca con questa autonomia dell'intelligenza artificiale per dire anche delle cose no eh per esempio eh prima eh ilaria parlava eh di eh questo esperimento di Cecilia Wagner giusti l'aria e che a me è questa questa ha fatto venire in mente un altro esperimento che era quello che mi aveva appassionata proprio all'inizio quando ho deciso allora di studiare queste cose che era la la il crollo della casa degli Asher di Anna Riedler eh e anche in quel caso l'artista che si chiama appunto Anna Riedler aveva deciso di costruire lei il suo set di dati da dare all'intelligenza artificiale e di costruirlo in un certo modo perché voleva poi eh esprimere una una certa cosa no ehm in questo caso erano dei dei disegni che aveva fatto a china di ehm dei fotogrammi di questo vecchio film eh tratto dal racconto del crollo della casa degli Asher e e poi dal dal dalle versioni eh in parte deformate che l'intelligenza artificiale tirava fuori di questi disegni a china ehm l'artista ehm ha creato un video che che porta veramente un discorso molto forte sulla memoria no? Su come e qui torno alla alla domanda che forse che mi facevi perché eh l'idea che c'è anche in quest'opera è che la memoria è sempre anche un trasformare le cose no? E questo eh vale forse anche nella nostra percezione nel mondo nel senso che mh appena io eh vedo il questo tavolo davanti a me in questo momento eh il tavolo eh come l'impressione del tavolo è già andata via no? Sto già trasformando elaborando eh quello che che ho visto che ho percepito e quindi c'è questo questo veramente questo nesso strettissimo tra eh percezione e trasformazione no? Eh e e queste intelligenze artificiali ci assomigliano un po' in in questo nel mostrare eh questa trasformazione dei dei dati originari che entrano. Cosa sono i dati originari che entrano? Ci assomigliano eh però eh anche eh ragione Simone quando dice simulano di essere come noi perché qui si apre eh il problema dello zombie filosofico no? Perché eh in filosofia si dice chi mi dice che non ci si non ci possa essere uno zombie eh magari anche ovviamente se è verde brutto con con la pelle marcia lo 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 sgamo subito però se è uguale a noi anche uno zombie che sembra identico a noi e che parla si comporta negli stessi modi in cui ci comportiamo noi come faccio ad accorgermi che in verità dentro non non sente niente non non sente non pensa no? E eh 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 Aghera Iarcas questo eh studioso che che lavora anche proprio nel campo dell'intelligenza artificiale ehm lo lo chiede a Lambda eh che è come dire eh GPT3 no? Cioè GPT eh di di qualche di qualche tempo fa e e Lambda risponde le chiede come come faccio a dire che tu non sia uno zombie filosofico e Lambda risponde eh nello stesso modo in cui io posso dirlo di te no? Che era proprio quello che diceva eh Simone. Ecco ovviamente è una provocazione in senso che poi il discorso eh può può andare eh molto molto avanti e stendersi al discorso mente corpo quindi ehm come mai a certi processi neurologici corrispondono delle sensazioni qualitative no? quello che avviene nel mio cervello quando eh vedo il colore giallo del tavolo non è la stessa cosa eh del del processo neurologico eh che posso osservare no? E allora questo stato qualitativo di vedere giallo che che ho io come essere umano è assimilabile all'informazione eh per Chalmers sì eh per per altri no io non sono sicura che sia assimilabile quindi ci sono continuamente delle differenze anche che che emergono con noi forse proprio giocando con queste somiglianze differenze che possiamo fare delle delle cose interessanti. Vedo che il passaggio dall'arte alla filosofia non riesco eh a tenervi a freno e notavo anche che stavi prendendo furiosamente eh appunti per cui immagino che ci sia anche qualche cosa che volevi aggiungere su quello che ci stiamo dicendo fino ad adesso. Va beh intanto lo zombie è fantastico io da bambina avevo una costante fobia che mia madre che mi venisse a prendere a scuola giuro non fosse lei e fosse un extraterrestre che si era impadronita e quindi io tornando a casa le facevo domande ma non domande serie tipo quando è il mio compleanno perché immaginavo che quelle le extraterrestre se le sarebbe presentate tipo ma ieri sera a cena cosa abbiamo mangiato? Delle cose insignificanti che lei poteva sapere e mi dava la certezza che fosse lei. Non ci avevo mai più pensato quando hai detto questo ho detto oddio mi devo fare eh delle domande. E allora secondo me una cosa interessante che forse non è emersa è che in realtà cos'è l'arte? È una grande domanda forse filosofica però in realtà la distinzione non è se una cosa è arte ma se è arte interessante e qui dobbiamo tracciarla chiara questa linea nel senso sicuramente l'intelligenza artificiale sa fare arte poi se in questo momento è arte interessante cioè che spinge il ragionamento il racconto del mondo in cui viviamo la forma dell'arte oltre che è quello che l'arte interessante fa al momento non tanto eccetto questi artisti che citavamo. Poi ci sono dei casi e ne cito uno che forse è l'artista più famoso che è questo Refika Nadol che è un artista turco di cui il Metropolitan di New York settimana ha comprato una grandissima installazione. È un artista che quando lo vedi così io da snob amante dell'arte concettuale mi sembrava un po' facile nel senso vengono immesse tante informazioni dentro e si crea questo flusso queste onde di pigmento che in maniera infinita si trasformano perché ovviamente l'onda può prendere forme infinite e quindi lui ti dice che è come la macchina vede in realtà nel caso del MoMA gli è stato dato il database di immagini del museo e lui le trasforma calcolando la quantità di verde la quantità di blu la quantità di rosso in questo flusso costante di pigmenti. Facile. Devo dire che con tutto lo snobismo quando sei davanti a quel flusso hai il potere del cammino delle onde del mare. Tu davanti al cammino puoi rimbambirti per delle ore, il fuoco è sempre uguale ma è sempre diverso e questa cosa per l'essere umano è ipnotica e lo è stata da sempre. Ti siedi davanti al mare e l'onda che è quasi sempre uguale ma non sarà mai identica e lui in qualche modo ha creato e quindi per assurdo un esperimento facile in realtà è forte ha reso quell'eterno che noi troviamo negli elementi, nelle nuvole, nel cielo spostato nel mondo della macchina che è il mondo in cui noi stando al computer fortunati otto ore al giorno gli altri molto di più è il mondo in cui davvero noi esperiamo la realtà quindi in qualche modo lui ha fatto un lavoro se vuoi facile concettualmente ma molto potente tant'è che il MoMA comunque resta il tempio dell'arte contemporanea ha raccolto fondi di grandi collezionisti per comprare questa opera e farla entrare nella collezione. Ecco poi Simone so che hai qualche citazione probabilmente da uno dei libri che ti sei portato dietro che vedevo che andavi a pescare per cui non voglio assolutamente impedirti di farla però a proposito di quello che diceva Ilaria cioè che comunque Refica Nadola ha utilizzato il database del MoMA questo ci mi dà l'assist per parlare in chiusura prima poi di aprire per le domande del pubblico per parlare di un altro tema veramente scottante di cui abbiamo soltanto accennato cioè che utilizzare ovviamente con il MoMA c'erano tutti tutti la questione dei diritti era a posto perché ovviamente se no non l'avrebbe potuto fare ma in generale si è aperto un grande tema perché perché cosa succede che tutto il database di immagini utilizzate da Migerni sono state prese facendo pesca a strascico su internet come fanno sempre i colossi della Silicon Valley io faccio non chiedo il permesso a nessuno poi al massimo chiedo scusa chiedo scusa dopo ma ci sono tantissimi artisti artiste autori da illustratori pittori tutto quello che volete che si sono letteralmente inferociti vuoi perché alcuni hanno visto in alcune opere generate dall'intelligenza artificiale qualcosa che aveva richiamava chiaramente il loro stile o perché magari è stata una richiesta diretta nel prompt fammi qualcosa nello stile di oppure perché andando a pescare oppure perché c'era una sovrabbondanza di opere di un determinato artista nel database questo sta creando veramente un dibattito molto polarizzato quindi la domanda è questi sistemi di intelligenza artificiale generativa poiché pescano da materiale altrui e lo ricombinano stanno facendo una sorta di plagio o nel momento in cui tu ricombini magari escludendo alcuni casi particolari ma nel momento in cui tu ricombini una tale varietà di opere combinandole con una maniera estremamente complessa possiamo parlare di un'opera d'arte originale in cui quindi il diritto d'autore non c'entra più e questo è il grande tema la prima la prima cosa sicura che è venuta fuori è che l'istituto del diritto d'autore per come è stato e per come è non è in grado di affrontare questo questo è il primo punto perché se io penso che il singolo artista musicista vada a ricercare nelle singole opere un pezzettino che assomiglia alla sua cosa quello a mio parere è insensato è improponibile proprio anche numericamente statisticamente da fare cioè non è quella la battaglia io mi immagino manè che viene arrestato perché fa l'olimpià del giorgione per la sua olimpià è la follia refi canadol ha fatto la stessa cosa a milano per esempio con tutta l'epopea del rinascimento libri quadri eccetera eccetera cosa facciamo lo blocchiamo perché ha preso il rinascimento come suo modello ispirativo che poi ha alimentato l'intelligenza artificiale quello io lo trovo veramente un campo in cui è impossibile andare a mettere le mani altra cosa perché spesso i campi si sovrappongono altra cosa è il diritto sacrosanto di un archivio di dire sì puoi entrare da me e fare i tuoi comodi questo è un diritto che può dire va bene io metto tutto in creative commons però tu devi fare così così e cosa oppure dico no vieni dentro il mio archivio fotografico costa un tot all'anno c'è un abbonamento c'è una forma di riferimento qualche cosa si può sicuramente trovare ma questo ha a che fare con i grandi archivi cioè sulla dimensione di database proprio dell'intelligenza artificiale sulla dimensione del singolo guardate così almeno non li ho portati a vuoto vi dico una cosa di una riga di una riga di umberto eco che parlava a proposito siamo nel 1964 nanni balestrini realizza un romanzo che è questo il mio numero è gt 5377 perché ogni volta il romanzo è fatto di un numero diverso si chiama tristano con un computer ibm e lui è umberto eco per giustificare il fatto che si possa scrivere con un'intelligenza artificiale con una macchina cita pascal che dice che non si dica che non ho detto niente di nuovo la disposizione delle materie è nuova quando si gioca la palla corda è la medesima palla con cui giocano l'uno e l'altro ma uno la lancia meglio e qui faceva un po il punto andare a cercare il singolo avvenimento del singolo pezzo di nota per poi andarlo a riconsegnare con un sostegno economico all'interno di un'alimentazione della macchina è folle sulla singola opera se ne può parlare certo se faccio un video con l'intelligenza artificiale ci metto la colonna sonora dei youtube e youtube hanno il diritto di venire lì a chiedermi qualche cosa ma se io alimento con tutta una serie di musiche che sono quelle che ascoltano youtube se voi leggete i libri delle interviste dei più grandi cantanti dico io ho fatto il cantante perché avevo ascoltato david bowie e david bowie perché io avevo ascoltato matt and the opel e prima avevo ascoltato i jefferson airplane e allora cosa facciamo la catena avanti cioè laddove c'è una elaborazione a mio parere va rivisto l'istituto e l'istituto va rivisto nel termine dei database degli archivi sul singolo la vedo difficile io penso che se passasse la logica che tutte le volte che qualche pezzetto viene citato allora ci deve essere una riconversione oppure può essere bloccato eccetera ci risparmieremmo ci risparmieremmo ci toglieremmo per esempio tutto il cinema di quentin tarantino per esempio cioè ve lo dimenticate da domani ve lo dimenticate vi dimenticate e quentin tarantino può anche passare devo dire la verità a me non piace neanche tanto però io non mi potrei più vedere quello che è il più grande autore di cinema per me della storia che è jeanluc godard me lo perderei completamente non c'è un film che non sia un ammasso di citazioni rielaborate quella roba lì non si può più fare io penso che sia una razio un po devastante e forse posso aggiungere una cosa interessante tornando un po al mondo del lavoro lei hai che quello che veramente cambierà e comincia a cambiare è che non è più tanto il singolo artista cioè quel modello del singolo artista nello studio che ha l'ispirazione e crea ci servono gli studi tanti di questi studi che fanno arte digitale usa intelligenza generativa magari hanno iniziato lavorando per dei clienti perché avere il computer che fa certe cose avere il tecnico che costa molto caro quindi quando tu iniziavi l'economia dello studio era ok due lavori magari anche di qualità non so come dire facciamo il summit global philips world facendogli trailer con intelligenza artificiale nel mentre capiamo le macchine guadagniamo abbastanza per poi fare la nostra opera che vuol raccontare qualcosa ma si torna in uno strano modo a un modello rinascimentale della bottega perché uno da solo non è in grado di controllare le macchine la macchina le immagini quindi in questo senso invece è una trasformazione che secondo me vedremo in fretta e abbiamo cominciato già a vederla col mercato dell'arte che cresce con gli artisti che devono produrre per avere successo un tot di opere grandi potenti care dove eccetto qualche pittore e la pittura è un caso un po strano nel senso che per ora non è stato svangato ancora la bottega del pittore se lo fa lo deve fare di nascosto ma tutti gli altri hanno degli studi enormi per produrre per controllare per montare per mandare in giro alle mostre e quindi questa modalità davvero è una trasformazione secondo me una cosa al volo non è neanche un caso che da quando la tecnologia entra potentemente nell'arte dalla video arte alla digital art sono tanti gli artisti singoli ma sono tanti anche gli ensemble i gruppi penso studio azzurro in italia ma ce ne sono da tutte le parti proprio per questa dinamica che dici dici tu che poi esplode con internet questa dinamica qui sarebbe anche bello avere non so valentina tanni che ci racconta delle di come le culture le correnti di internet siano diventate ormai un lavoro collettivo alice voglio chiederti in conclusione veramente se avevi anche tu qualcosa da aggiungere su quanto stavamo dicendo adesso sul lavoro collettivo sul diritto d'autore se no sentiamo le domande dal pubblico Muto Scusate se non ho ancora imparato proprio due parole su tutti e due gli argomenti il il primo quello della ricombinazione di elementi già esistenti mi ha fatto venire in mente ma proprio brevemente una una lezione di calvino no che si chiama cibernetica e fantasma in cui calvino dice ma sarebbe possibile una una macchina che creasse letteratura ma proprio letteratura come la intendiamo nel senso alto che esprimesse la nostra vera nostre vere esperienze sentimenti eccetera e poi risponde sì perché la letteratura non è altro che una ricombinazione di elementi no e poi però dice ovviamente sì però il chi fa vera letteratura riesce poi a far emergere il fantasma infatti cibernetica e fantasmi no che è quello che non si riesce a vedere di solito e quindi e poi l'altra cosa che mi era venuta in mente invece invece eh rispetto alla 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 a quello che diceva eh Ilaria importantissimo anche a livello filosofico questo messa in questione del un po' dell'ideale romantico di artista no che poi oggi non è venuto fuori probabilmente perché nessuno di noi tre lo lo condivide no però invece è quello che viene fuori sempre quando ci sono queste obiezioni l'intelligenza artificiale non può creare perché a creare solo l'uomo coi suoi sentimenti eccetera e viene fuori ancora questo questa idea di genio eh solitario che crea buttando fuori tutto quello che ha dentro no che poi è un'idea che che è stata messa in questione già in tutto il novecento no l'artista crea un dialogo con una serie di cose che stanno al di fuori di lui e e l'intelligenza artificiale declina in modo nuovo poi questo problema che è molto interessante ecco adesso apro ufficialmente posso dire solo una cosa al volissimo giuro vai calvino no perché il il saggio che lei cita che io ho qua è interessantissimo perché nel 68 esce su nuova corrente con il titolo appunti sulla narrativa come processo combinatorio e calvino viene attaccato duramente proprio perché diceva questo che la letteratura può essere anche combinatoria può essere anzi nella maggior parte dei casi è mettere assieme pezzi di una cosa e dell'altra e veniva accusato di essere a favore del plagio e via dicendo quindi vuol dire che c'è tant'è che poi venne ripubblicata sul caffè una risposta che calvino diede a quanti l'avevano avevano polemizzato questo per dire che è un è un dibattito che va avanti da un po e che forse dobbiamo finalmente affrontare in maniera un po più matura di quanto fatto fino adesso solo questo è fatto benissimo ottima ottima chiusa ottimo cappello